Hai brillato con alcuni preziosismi, come quello del rigore procurato. Come queste tue caratteristiche si sposano col gioco di caserta? Guarda, il mister è la cosa che chiede, oltre la tre quarti avversaria, di fare quello che si vuole. Quindi penso sia la cosa migliore per noi esterni, attaccanti, qualsiasi ruolo in quella zona. E quindi io faccio tutto tramite istinto e quello che mi viene faccio. Era la prima da titolare. Come ti sei trovato a fare tutta la fascia e come ti trovi all'interno di questo gruppo? Bene, per fortuna ho trovato un gruppo fantastico sotto tutti i punti di vista. Si mettono a disposizione ogni secondo, ti aiutano anche in campo. Se sbagli qualcosa sono lì ad aiutarti, a darti sicurezza e penso sia una cosa importante all'interno di un gruppo. A chi dedichi questa particolare prestazione? Dedico sempre alla mia famiglia che mi sta vicino in tutti i momenti, sia facili che difficili. Penso sia una cosa importante questa, soprattutto nei momenti difficili. Io penso che andremo mercoledì all'Ignago pronti e cattivi per portare a casa i tre punti, che penso sia la cosa fondamentale. Questa vittoria di oggi ci aiuterà, però non dobbiamo cullarci perché dobbiamo pensare di non aver fatto niente oggi. Questa vittoria di oggi.